Come Castel del Monte, con pianta ottagonale ma progettata a sud-est in direzione della Mecca, è l'università islamica che sorgerà nel territorio di Monteroni, non lontano dal campus universitario Ecotecne. Il progetto, che prevede sede legale, rettorato e college con 300 posti, è stato presentato sabato a Lecce, nella sede legale e amministrativa della Fondazione Università Islamica in via Matteotti. Al progetto si oppone da mesi il Comune di Lecce, fondata da Confime, Confederazione delle Imprese Mediterranee, che resterà fondazione finché il progetto non diventerà operativo. La nuova università islamica partirà già il prossimo ottobre con le attività di formazione d'eccellenza e ricerca e un corso di laurea in teologia, che si svolgeranno probabilmente nei locali della sede legale, a cui da gennaio 2016 seguiranno due master in diritto economico e finanza islamica ed uno in scienze delle costruzioni. Tre i corsi di laurea previsti entro il 2018, scienze umanistiche, scienze agrari e ambientali, scienze del territorio, poi medicine e scienze infermieristiche. Stiamo accelerando, commenta Giampiero Khaled Palladini, presidente della fondazione già a capo di Confime, Ricordo a tutti che Lecce, prima di avere la sua università, ha aspettato 30 anni. Ad aprile avvierò ufficialmente i contatti con i nostri partner economici e vi posso dire già da ora che non saranno solo dell'area medio orientale. Vogliamo dimostrare come attraverso la cultura si possa davvero costruire un ponte per la pace.